Ripresa degli allenamenti per l'Isernia, dopo due giorni di pausa tornano in campo gli uomini di Pierluigi De Bellis per preparare al meglio il match del 6 gennaio all'Ancellotta contro il Matelica. La prima giornata del girone di ritorno in infrasettimanale, poi in campo domenica 10 e ritmo serrato sino al 6 marzo. Dieci giornate da vivere senza pause, poi due soste a marzo. Prima il 13 con il torneo di Carnevale di Viareggio e poi il 27 per le festività pasquali. Dunque, mercoledì nel giorno dell'Epifania parte un nuovo campionato. Diverse le squadre che hanno ingaggiato nuovi giocatori e hanno potuto lavorare al meglio in queste vacanze. Come sempre, il girone di ritorno presenta maggiori difficoltà. Le compagini in lotta per la salvezza hanno un'altra marcia. Come del resto, anche chi vuole primeggiare in testa deve serrare i ranghi per il finale. In quest'ottica l'Isernia può sposarsi al meglio. Panico e compagni hanno dimostrato in tutto il girone d'andata da avere la giusta mentalità. Lottare giornata dopo giornata al massimo delle forze per non lasciare nulla all'avversario. Sono quattro i punti di vantaggio sulla zona play-out per i bianco-celesti, ma con un numero di squadre elevato nel giro di pochi punti. La gara contro il Matelica si presenta sicuramente complicata. I marchigiani, con un vittorio esposito super, sono in serie positiva, con quattro vittorie consecutive e al momento sono secondi a meno otto dalla San Benedettese. Ricordiamo che all'andata i marchigiani vinsero 4-1 proprio all'esordio contro l'Isernia. Se i bianco-rossi vogliono provare l'aria in corsa alla Samb, hanno il compito di non fallire praticamente più nel girone di ritorno. L'Isernia ha dimostrato di non temere nessuno all'ancellotta. Nel 2015 il campo amico è stato violato solo dalla capolista del girone. Detto questo, Matelica a parte, il mese di gennaio sarà davvero fondamentale con le gare contro Vispesaro e Giulianova, prima di giocare a Fano il 24 e chiudere in trasferta contro la Folgore Vergra il 31. Insomma, cinque gare in questo mese per provare a chiudere, o quasi in anticipo, i giochi per la permanenza in Serie D. La squadra è pronta a lottare ancora per arrivare all'obiettivo e continuare a regalare emozioni ai tifosi.